Nelle fabbriche. Ok. Ok. E comunque Kanbaro è partito con la tua voce. E va bene, succede. Un po' di più si rende. È la mia grande stile. Oddio, devo sistemare le robe. Ah, ciao Sanji. Con la. Sanji. Con la. Sanji. Sanji, anche se mi dice la. No, no, me lo dico apposta. La. La famosa hyper. Oh, inizia. No, davvero? Sì, se mi dice se ne sette. Ah, ok. A ruvarmo più. Ma fate sempre tipo 15 secondi dopo. Eh, padrona mi dice che verrebbe se tipo la. Se lo gildate. Lo gildo io. Ma con padrona o con non essere? E questo non essere penso. Oh, è stata. Noi startiamo. Farò loggare. Si è buggato. Non mi abbina. Ecco, è gruppo io adesso che è meglio. Quindi è uscito. No, no, ma siamo in 100. E fuolo all'80 adesso. Fuolo all'80 proprio. Gruppa, ok. Sto arrivando, sto riloggando. Bello. Bene, io ci sono entrata con le skill pwe. Bravissima. Applausi. Congrats, congrats. Andrà benissimo. Zegg Storm! Cosa? Zegg Storm! Ciao, Siro. Siro, ce l'ha bisogno di uglarle i quattro venti. Siro, guarda che storici sta. Anche la mia vicina di casa ti ha sentita. Uh, Kierke. L'ideale è come riscaldare. Ma Zegg Storm! L'abbiamo trovato anche io ieri. C'è che so, con Eka e Koro. Salva, mi salva. Adesso mi trago. Ok, non mi offrego. Vai, vai. Ah, ok, ce l'ho. Madonna, tanto l'ho fatto neanche un pvp prima, quindi devo scaldarmi le mani. Oh, quel... Salva. Scusa un attimo. Non eri giusto due secondi fa? Non eri su una stipare due secondi fa? Mmm, veramente un'oretta fa. E poi è diverso, ero con l'Utile, non ero con la rima. È diverso. Vabbè, vabbè, stavi stippando. Sì, ma hai capito che quando salti con l'Utile... Fai... Fissa, fissa! Fissa, fissa! Non cosa? Ah, lo chilo io, lo chilo io. Ok, preso. Fissa, non fissa. Vabbè, ma... Ma, niente con... Ah, stiamo a 3-0. Bello. Partiamo su, in realtà, no. Non sono così bravo da farlo. Fissa, fissa, fissa. Fissa, 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 fissa. Più, più, più! Sì, fissa, fissa! Ah, fin con, non ti sentivo. Kitsune è tipo Victar, mi ha cavato 30.000 con quella skill. Well, boom! Sono di merda! Well! Cioè Sevi adesso devi farmi capire cosa potrebbe pensare la gente se carico un video con questo sottofondo qua Aiuto Seji Arrivo Più 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 Ma se sto affondendo Ma Sevi con chi è? Sono con Genshi Che in realtà è Genshi e Laiz che non ho idea di chi sia Perché Laiz con te che è Genshi? Cosa c'entra Laiz con voi? Non ho idea Totalmente era il Stagdust Show Con i PvP davvero Era solo quindi E lo portava anche il follow Mi ha levato mezzavite questa Aspetta se mi liberate faccio un arpio Ah no no Sono appena spawnato Non mi spawnare Mi ha levato un HP praticamente il tuo acceleratore Bene Aspetta Disco ho visto un disco Oh l'ho ucciso come? Si è morto due volte Ciao Ciao Tutto bene? Uh si Ho fatto anche 2 kill però Ci sto provando Ma chi è quello? Quanto siamo? Quanto chi siamo? Ehm Perché c'è il coso di Scarpy davanti Oddio 5 HP Perché lo temi praticamente sulle vittore? Ecco sulle fitte Eh perché o lo metto sui buff O lo metto sui Devo capire dove metterlo Devo metterlo Perché tu giochi a Scarpy Kamerg durante ilipi del 96 hè? 2 sicuro Ancora io Per cui ho visto che Mi scapparsi Avviste un altro Ok sono fuori Vai Girls Ok mi serve uno sotto il mio gonzo Dov'è qua? Ecco Psychex morto Ma Ciro con chi è? E con Canna e... E con Celestino Oddio, un 70 o un 76? Se le cose via a casa Ce li ho ce li ho Entrambi? Wow I miei FPS Ma come lo sa odio? Ciro non crashate Quanto sa? Un crash Invezione del C Stai tornando No, sta tornando No aspetta, forse mi sono salvato No, salva Vai via torte, vai via torte E' vivo, ma ecco Ti leva niente di loro Capirai, sono col buff mk3 Ho come la sensazione Che Aileen sia rimasta da sola Perché non... Su serio? Oh no, Aileen ci ha Te da sola aspettava dei muoi salsiccia Salsiccia cuore Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, no Aiuto Bona Aiuto, aiuto sengio Ma perché Torli fa salto zeta così a caso? Dai dai che lo prendo Oh no, ho fatto lì Do questo Io vado via Mamma X E invece no, evidentemente no Ok, io non so cosa devo fare Fai control quando lo hai Cioè di questo devi farlo Ah ok Vai via, vai via No davvero, sono super vissuto Ma chi è che l'ha lanciato quel cosa? L'ha lanciato L'ha lanciato Non so come lo schiva Siamo due qua dentro Io sono morto E appunto E plasma non usa un'accelerato Oddio io sono morto No, sono ancora io Go 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 Wow, wow Falco Nooo Che i paesi stai tornando Fa schifo Non riesco più a loggare Mi sei bloccato nel... Ma no Perché Shiro? Non lo so, mi sei bloccato Sempre tu Wow abbiamo vinto, fantastico Oh, contro chi avete vinto? Contro... All Stars Io l'ho vittato, lo giuro E quante kira hai fatto Sebi Aspetta, io ho fatto... Oddio, mi ha fullato Sono primo Anche ha fatto 3 kill 0 o4 No 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 E... Perché? Cia Lo ho usato come fermaterno Per scappare quel pollo Oh ho dimenticato di mettere la Kaka Devo dove la metto? Oh no La... Mi stupro Eh la... Io la chiamo la Kaka Porca miseria Ti shotto? No 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 Solo la US posso shottare se me la metti ferma ma in tutto questo siete morti già due volte oddio si vabbè non siamo come te ho capito però cazzo io non mi chiamo X-Dungeon non mi chiamo X-Dungeon non mi chiamo X-Dungeon mamma falco mettigli il bleed che sicuramente ha la passione perchè tu hai in vita oh ora scriviamo, io scrivo tutto ha breccato oh i tempi vieni qui torni vai tu vai tu mettigli il bleed che devo fare? bravo bravo ah vabbè too late mate siamo primi? si credo come sempre si 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 con 10 vittorie è una mia è una 10 vittorie 10 vittorie 10 vittorie 10 vittorie 10 vittorie 10 vittorie poi tutto sotto al video non hai lag lag ah ok e a non il legend ma puoi cercare la misi blade cioè se la stai facendo oppure no delays for days aiuto 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 sta arrivando basta ferma tempo ragazzi puoi scendere giù adesso cercare la misi blade che e tanca più di senzi tra poco no 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 è così level tra poco tanca più di me tanca più di te discusse si ma ti hai difesa a quei piani cioè rimasti faccio bellissimo ehm ma qui tiene dei pezzi 8 e 9 quindi giatino una buona difesa base poi mettici pure una buona è colpito davvero nooo per poco da me l'ho hittato davvero da me no nooo ferma te mi fa giocare i revolver oh qui fa giocare i revolver lanciare i baguetti è qua è mio cioè vabbè l'ho lanciato via grazie per avermi tolto almeno prendo io sono sopravvissuto la ok sto giocando di merda no no non sto morendo ma sto giocando di merda ma qualsiasi no che senza gruppo magari ma quindi cremi si cava anche più di te cavare le vedo un po' più cavare non proprio però di solito quando faccio il doppio salto e z io cavo un bel po' ma lui non ci levo una mazza non ci levo una mazza no ok un altro che mi tanca assai è shukaku però comunque l'ho perfetto shukaku e lo shot si ma perchè il brandmaster ha quella passiva della resistenza ai danni Welp ti salvo io e vado contro un attizio che non c'entra in azione ma se hai passi metà vita a noi aggrincio solo di ferma tempo quindi attenzione ho detto mp ho detto mp ho detto mp vado sto a 2 mp non posso fare un ca... non posso fare più 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 non... non tengo mp per le reti e stai fermo a caricare non puedo ecco tengo mp mettete i miei vicini così faccio tutti i metri prisma perchè ho il mana sei riuscita a farlo tipo attirarli sulla voca perchè sei tipo attirarli è successa una cosa strana ah un attimo abbiamo startato uno adesso usciamo dove sta mirando? io non capisco più chi devo attaccare no 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 fatemi fare una crash ti ha insert 200 mana poi intere praticamente 8 sono morti grazie per la pinta quanti che fai x-shot vai 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 no 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 mi ha preso arpunghier come dice palazno arpunghier arpunghier un pepeh ogni stunno mai vai discus eh però boicata vado sulla nv vado sulla nv eh sì ferma tempi grazie ce la posso fare vado a morire cheissa ah ma stanno vincendo loro eh ah bello appena l'ha detto perchè mi esce da tutto guardate deve fare un po di 1.p per fare bug ah no 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 c'è lo ancora lo ho preso lo ho preso arrpunghier arrivio no 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 he c64 no 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 pls Cosa? T'ha detto demo? Ho subito 3 insieme! Ho schivato 3 hh! Ok non l'ho schivato! Seiji vai tu con l'h Hai vinto 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 Hai provato a uccidermi con 3 hyper non ce l'ha fatto Io ero tranquillo lì Io che ho ucciso una volta non me Non ha ucciso me Qualcuno l'ha ucciso perchè ho visto una morte Però non ero io Chiaramente Io sono morto una volta e pare Ma haidina gruppo E' strano se non l'avesse più si doveva Vabbè c'è la sua gildare All'intrima si è unita a un altro gruppo Che non mi ricordo quale fosse Ah lo fanno cadetto demo e Scyzis Chi sono questi? Ignoti Facciami fretta Ok vado Mettimi sopra e faccio discus Vai Se a qualcuno interessa non ci siamo qua Ok adesso mi interessa Ecco qua Vabbè l'ho sciolto Ho preso io cadetto Gis Oh Gis Ma che è l'ordinale hai fatto Ehi ho sciolto A Contesto 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 Sto cadetto è A Ragazzi Cosa Ha fatto il rank ieri Cadetto è A E A Ha fatto il rank ieri Cadetto è strano Vado io ieri Ultima è A Cisama Ma sono morti? Si Si Ah ecco lì qua Sparo Sparo baguette dall'alto No L'uomo mostra sparo baguette Baguette appena sfordate No Si vabbè ma non ci credo E' fatto Perché quella c'è in fondo così Perché era attaccato adesso? Perché sei ancora lì? No 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 Nooo C'è un LP C'è un po' che mi ti campero Ci ha scioccato in 3 E' un attimo però E' un attimo però E' ho sempre strappa netting addosso Sempre Contro chi? Quante screen mi sta cancellando? Nooo Contro chi siete i campi? Tociongo di merda Contro la trapnetta Contro me Kiss Che c'è? Ah Kiss Mi sono beccato 83 ferma tempo E vedi sto sempre così Sempre Ok Bello Mi sono realizzato ferma tempo Ho beccato Mi sono realizzato ferma tempo 3 volte di giro Tutti su celestica La tristezza Poverina Ah nooo Ma è 3 Viro, Nai e Plunna Viro, Nai Che culo Mi sono addosso Bravo Comunque oggi facciamo i 100 Contesto Cosa? Si fatti stupendo Bravo Viro Viro Dimmi quanto Quante combo ho fatto Viro Ah ok Quasi Non ho i tentativi Droom 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 Praticano Droom Droom Cazzaro Droom Oh Droom oh Diveratamente da questa CA Fortuna che l'hai filmato Si ho filmato tutto Prendilo Può mettere anche solo quella scelta Vedi che magneto Ma da quanto tempo non vediamo queste persone Cos'è questo? Eh cosa? Si lo so No 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 Perchè non ho breccato? No tipo gli devo più Io faccio il quickscope della vita Contro la CA Contro la CA in strike Siiii Ho visto tipo un Un cor a salsicciotto Venirmi andò Non ha messo Ma sbaglio quella CA sta facendo cosa a caso E' impazzita E' come il camber quando fa il tren Il treno Il camber quando fa il treno Vabbè anche Aiden vanno avanti e sciottano tutto Questa CA invece non sciotta niente Intanto davanti al treno Mi è di Aiden E' il contrario di Biuqs praticamente Perchè? Non lo so Tanto sono morti Non vedo fare il treno a Biuqs da decenni Oh si Bene Che bello non sono morto Magnetropp Magnetropp Cos'è questo acquisto Così all'improvviso Chi? Blackout Ah si C'era prima E' un altro santino Ci manca solo Brazir Santino dell'altro Oddio Ci manca solo Brazir E Aroskix Allora io voglio Pre-Tigre Palmare Scusami Tano Eh si si Tigre Palmare Facciamo il gruppo Facciamo il gruppo Scusa però Se com'è Mi prendevano loro Se no Perché Peter non sta perdendo un HP Ti faccio il disco se vengono da dietro A chi interessa ho canecchi qua Fammi fare il disco su Cirche Aiuto Heartbreak Oddio No 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 Please no no Sir Ben bellissimo Hai fatto da muro quando li lanciavo con PR Ti rendi conto? Facciamo il libri a mia No 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 Becca via cini Oh adesso c'è inizio Basta che biti l'ultima Ah non ho preso il libri Heiustan Heiustan Cosa vuoi canecchi Ecco Il raggio di particelle di canecchi è stato fantastico Oh bello Oddio Si Cos'è successo? Guarda Guarda il scudo ma C'è ora quando mi fa magneto Nooo Ma 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 che Lo neutralizzo Tanta roba Nerfate Falco Please Nerfatele Nerf su Falco E' vero Tu OP Perchè? Non lo so Sto facendo gli step però con il super egg jump E sono andato auto Io sono auto pilote con gli step Arrivo io Mi salvate da Da Victor 2 Guarda che l'ho preso tutte 3 No 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 ti fii No ti fii No ti fii L'ho preso tutte 3 Merda Perchè mi ha fatto cannecchi Cioè Ma cannecchi è un pollo Ho un HP da mezz'ora ve lo giro Mi sto rialzando e mi skill Normale che non mi prendi Ok Ti lo fermo Ho ultimate Filippo Prisma Oh si aspetta Questa che lo tieni fermo Ok aspetta Nooo Fermatevi di merda Ma che il che non si rende conto che sono appena nato Cioè appena nato E lo faccio solo lui Ma me Cannecchi ha fatto la stessa strontata Oh no L'ho fatto su cannecchi Oh no Oh no Come fa a cavare così poco Oh di nuovo quella merda Ok Yotan Ah no mi ha fatto cadere Nooo Me la volevo subire tutta Aiuto aiuto Senni Arrivo Io vado a caso E io ce l'ho fatta Devi come Così No non ce l'ho fatta No questo però Vai fiii Devo fare il giro e fare i disgusti Non si rispettano Fatemi fare un pochino di fuoco a caso Ecco Non ci credo un'altra volta la Reborn Che sono in due Controne che siamo tre Non ci Succede sempre con loro Sempre Allora due sole Sto registrando non insultati Non li sto insultando Lo sto dicendo una cosa Questo non ho detto nulla Sì è vero lo so Scherzavo Sempre contro di loro due E noi siamo tre E due sole cosa Allora fanno una posta O tipo c'è gente che non fa ESC Loro abbinano E secondo me è questo Secondo me potrebbe anche sì questo Perché i tieni io stavo Sì ma dopo cinquanta giorni di evento C'è ancora gente che non preme ESC E fa capitare sta cosa Scherzavo Dai ieri stavo Dai non ci credo proprio Questi sono i TIA Li abbiamo fatto i SEG in ufficiale Tra l'altro Sono TIA questi? No ma sentite Ieri stavo facendo PPP Pace e cadetto Entrambi non l'hanno fatto ESC E mi sono trovato la solo contro Entula e Compact Che bello Mi sono trovato i TIA Noo Ssshh Andate via tutti Noo Noo Ci ho provato ad andare di sopra Si no Ma cazzo Noo Il tuo Discus mi ha sparato via Canui Il Discus salva sempre le vite Noo Beh arrivo Più 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 Ti prego E fammi schivare qualcosa Chica for you No ok devo breccare Ma cosa oddio Illuminati confirm No Hai preso Ho beccato qualcuno ok Bah no Ok l'ho preso E' il vento ho visto un vento Sulla gachi la posso shottare Dai dai No 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 Via 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 Oh Ah mi ha preso Aia Come deviare la like a boss Ma io ho visto il score che ti prendeva dalla colonia Fermo fermo Fai un fermo a tempo in più No Si Vai Questa roba Questi sono delle belle cose Via 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 No 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 Ah non ho sentito dalla tempo se non ho sentito No Che lilia Guarda Io non rinasco Ah ok Ecco l'ho shottata io Vabbè faccio fuoco a caso E l'ho preso Vai vai Si Porca miseria Oh Si si l'ho preso No Peccato Vabbè io tanko Wow Tengo tipo Oddio Vi ha lanciato qui E ho schifato la freccia Non va bene Non va bene Ci dobbiamo rifare Canto sacco Grazie grazie No non la prendi quella dietro Non chiedetemi come Ho fatto reflex kick su Su Come si chiama su Invecchiamento Invecchiamento What? E l'ho shottato L'ho shottato Che cosa bello Hai riflettuto l'invecchiamento Io non tengo spazio Me lo metterei anch'io Sai quanti trollo Ah beh che trollo c'ho con falco Quindi basta quello Ma sai con l'RS A riflettere legshot Ho riflettuto legshot A draguccio Oh no Cosa bruttissima Devo tankarla Si si Ma mi devo alzare Devo fare uno sharp In faccia No no Vai vai Ok ok Qualcuno mi spiega Come ho fatto a fare A fare l'effek Su la pietra quella lì Ma poi L'hai rispondito all'indietro La palla praticamente No no La pietra del Come si chiama? L'hai rispondito L'hai rilanciato indietro Praticamente Invecchiamento si Però dico Chi fa dai Quella che gira Non l'idea di come si chiama Pietro infernale Pietro infernale si Ecco E ha fatto danno a quella Come ha fatto? Che cose belle Questo gioco è fatto bene Molto bene C'è tu vai in giro Fai soltanto reference click E riflettuto Si Il shot va giù Qualcosa riflettuto Ecco Adesso scoppa che si può riflettere il volo di rodi Che magari si uccide da solo E te ero nero E tani Aiuto 2 contro 1 Ah era qua Prendelo Prendelo No 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 Arrivo arrivo Uno non può neanche fare un team Uuuu Devi a kill Si si ce li ho ce li ho Ce li ho ce li ho Chissà Un po' li frame Come se Calzi tu No Io ho messo No Chi spiace Allora Arrivo No ho fatto stoic Ah che di arrabbiare No aspetta aspetta Fatemi schivare qualcosa Oh c'erano i lippi di merda Cioè Guarda dove è andato l'ite Mi sa Li ho presi Si in tutti e tre E utile ampi in questo A parte che Che fa danno Vedi Ti blocco pure tutte le skill Via Dov'è si Per gli secondi Vero dove Non superare le cooldown Però Ah Ecco chi No Mi ha andato via Chi è questa qua Ah è te con me Beh che bello Ma dai l'avevo preso in pieno Via 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 No Non ho fatto Nooo Sono morto Non mi ha preso Si sono morto Tutto un super main Ok mi son fullato Se sei fullato No no però le trappoline mi fottono Quindi via Eh lo so Via 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 U構 poi un po' di spawnati in faccia Nooo Lo preso lo preso lo preso Cosa? Cadutani i sviti Ho pure schivato cadutani risponde Ecco arrivato pure lui che colpisce prisma giustamente Ma cosa vuoi scriverlo lui? O va via uder più schifoso della mia vita alle mk3 ci credo ma non cava niente al pione dopo che è stato elefato ma che schifo al pione? ma quale schifo erai prima che mettono? nooo a me non ha preso ok ce l'ho devo scappare ti aiuto mi servono 20 potutissimi anzi mi servono pure gli mp quindi l'avete preso della mia vita non riesco ad andare avanti nooo io non ho mana 100 mp 100 no 110 morto ora sono presi in faccia sei morto no non sei morto ma sei morita anche voi merda oh raga a chi prendo? no dove sta teronea eh sta qua da me non mi fa volo no porca merda ha preso trambi no tengo il bleed eh si ma non tengo mp merda vado su kiss no 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 tra ce la ce la ce la ce la ce la meglio molto meglio ma qua ce l'ho dovuto con discus per le perdevamo che ho fatto 0 kg aally no fagli fagli potrei notarla con 10.000 renis cos'hai fatto a mirenis? no, c'hai non mia renis hai venuto fatta con 3k di danno con cheerlightning a 120k solamente di cheerlight oh ma hai visto il mio video di arena con l'RS i due ho messo due video dove mi shottava praticamente bis sama ancora fis ho visto un counter si per fortuna è la calma per fermatempo no 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 arrivo arrivo sto avendo un po' di brutto lag che laggio aiuto mi ha preso Terunay mi sa che crash no no rip plasma rip plasma mi sa che crash tanti polvi tante baghezzi non so perchè inizio così a laggare quindi o finisce a breve o crash tutto su di me sto ma vedrai chi si lamenta cerco solo di non dare di fastidio sto qua in un angolo no vanno l'acchiere si che sto laggando no m'ho smesso m'ho smesso a posto non ho smesso stavo scherzando cosa arrivo nooo mi ha bloccato parte ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho adesso va qui vero che vai di aiuto ho schivato tutto evviva è gigante nooo sto schivando la tua iraidi ok un laggare un laggare più non so perchè però ci sono 5 trappole kiss mi ha salvato delle trappole lanciandomi via bene ma davvero fortnate e ah bello beh vai che prende anche lei vai che prende anche lei fortnate nooo le curve facciami il renis che vola fai tu ma c'è lavoro nooo mo spammative perchè se no cade nooo nooo poi accade dopo un po' di tempo si e lo so non serve nooo bis ti ammette viva ops sono ancora vivo ah ok sono morto perchè lo dici così forte vedi che poi e la c e la c e la eheh uh grande felato ma sta ancora laggando no no non laggo più adesso ma forse non so perchè ma mi ha tipo fatto un bel po' mi ha fatto degli sbalzi per qualche secondo poi ha smesso subito meglio arrivo 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 nooo mam guardalo guardi i danni come ero usita il maledino renic mam hai visto cosa è successo ho visto i tons of the maze 35 tempi no voglio scriverlo io ahahah ma dover dirgli no la persona te li dico salutati youtube salutati youtube vabbè dopo lo posto su cronache che non laggavo su skype e che mi sentivate comunque no? si io ti sentivo bene eh su skype però quando stavo laggando su skype non mi laggava gelesca infatti no no fai 7 forse perchè si stava discontentato non era lagg ma non si stava discontentato da server non credo sia lagg ecco 7 sta lamentandolo ok avete fatto 7 no 8 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 è sprecato tantissimo veramente farà disco subito ok no al telefono ok posso rifiutarlo no no non ho preso nessuno no 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 oddio lo stavo pure canzando no scusate ho visto la palla nera ho visto che fa disco su lui aiuto allora io salto Vai, prendilo Oh, cade Ok Chase No, no, no Oh 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 The damage Ho sparato via Cloud Precato E perché ha fatto tipo nuova V? Oddio, le ho schivate tutte Fortuna che l'MM ha un rage da schifo Cioè, perché prende solo avanti praticamente Da quando non eri fatto le cose Ha molto meno range davanti Ah, hanno fatto bene in realtà Salto Z lo prende molto meno Il problema principale sono i danni Non è da Prima avevi tutto on Oddio, ho visto un 114 mila io No, 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 non mi fare nuvola TVB, TVB, no, no TVB E poi dici che i KR hanno i modi più diversi No, ho troppo di merda Sono un add, quindi posso subire danni Sono culato Qualche miseria Guarda che a Cloud levo più di Levo più di quanto mi dovrei levare E tiene tutto più 9 Ma levo troppo E fu il primo Gli levo un casino No, no, no Oddio Ho visto un Discus E' normale che mi leva poco Tiene la piotto infatti No, ho preso nano No, è gigante Ah, no, no, quella è Amun che tiene la piotto Non so che arma di escremento Non sto facendo niente Oh, no, ho breccato Ah, cioè, mi fa a crescere Oh, ho voluto fregare Ho però preso lì Bello Aspetta che in campo Oh, via Piu piu Al volo Sì, ho beccato Oh Te l'ho rimessa di nuovo In alto E' morto delle cose invisibili Ok Mio, mio No, state lì Vabbè Ho preso qualcuno Io sono nagellina Poi dove ne so Sì, tu resta lì L'ho fatta apposto per voi Tant'io tanto Dov'era l'airlingo? Io tanto mi rifaccio HP con le vostre morti Quindi va bene così Guarda là Guarda, sono quasi nuovo full E se vuoi muoio ancora un'altra volta No, no, basta Perché tanto Cloud se mi prende mi sciolta Quindi Meglio evitare Ha targettato me Porca miseria Evviva Aspetta Dove lo fai? Oh no Ho visto un discus Basta con questi discus Finisci che faccio gli incubi su discus Ha fatto Apocalypse No, Apocyan Via, 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 via Aspettate un attimo Che arrivo con Apocalypse anche io Non ci sto capendo niente Io nel frattempo muoio Perchè non tengo MP Non posso funcare Ah, ho fatto a poca Di Uccisi l'MM Come? No, no, tu Dico Eglian Che già lì Ah Boh Ok Mi stanno... Oh, una cosa bella Ho trovato la trick No, 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 no Cosa? Sei buggata, sei cancellata Ok Mi ha sciottato Thibaut Mi ha sciottato Thibaut Bene, bene, bene Sette No, per poco otto No, aspetta, aspetta Ce la, ce la, ce la Ok Ok Ho visto la vita scendere A posto, a posto A posto Ho visto, ho visto un pixel Ma cos'è, hai cancellato la Io sono saltato Ma dove, mi stavo pure avvicinando Poi ho visto che stava patendo la hyper Oddio Corri Tiene la Ma ha levato, ma ha levato tutta la vita con il giro dell'hyper Aveva paura di me Ma anche, in realtà i primi metabili erano tre quacchi di vita Io con l'epo non levo niente Weinberg Chi è quei? Ah, Lancome Lancome Cosa? Rayburn, Rayburn questa Non sono la Rayburn No, sono, no, no, sì, sono i Rayburn Ma sono pochi i Rayburn oggi, credo No, è che fosse scrivati Aspetta, aspetta Faccio malare di te Le loro tacche Arrivo Ocho, c'è le trappole Le trappole, alle ganare Da quando, coca, vai No, si sta vicinando Weinberg con un xxx Oh no, mi ha zezama Cioè, guarda quanto mi sta Ma ha levato con un giro di siege a caso Sì, ha da più 10 No, questo non tiene, ha più 10 Non era lui con la più 10 Ah, era un altro tt Ah, era Kazama Kong Quello con la tt Oh, bello sto colpo, Tasha V Mi ha fatto emozionare Prendo qualcuno Sì, ho preso, ho visto un hit Ah, ok, sta per crepare Oh no, è questo destroyer Una crepa Blucia L'oposfero Papam Vabbè, va a zuccare di polvere a caso Ok È morto È via, posso steppare? No, non posso più steppare Steppo, 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 attenzione, panico Prima steppando quella a casa è cancellata, ok Oh, mam, stepp in via No, sono morto Mam, get the camera Ho fatto cadere Oh no, ho fatto è troppo facile è tanto troppo facile perchè? ma come ti smettai? via! via! mandate su, tutti su, no, niente guai non fai a, non è un ip lui lo so però non ci stava bene via! ho detto via no, no, non fare lampo, voglio voglio no, no, faccio un pollo, faccio un pollo ecco il pollo me l'ha fatto lui posso fare anche il paletto? no! ma io mi confuso se erino o osaba oddio! mi stanno tipo facendo non solo una paga, bongo uno con bazooka revolver, un altro con via via fige! adesso gli brucio tutto il campo tattico così impara a farlo ok, mi ha ucciso, no non mi ha ancora ucciso ok, mi ha ucciso, ah ma siamo tre ok, sono sul lato devo aspettare 30 secondi, se hai capito non è morto è già la quarta volta che lo prendi ora muore è morto sono arrivato non so se fare uno sharp fall o poi me ne pento vabbè io non adesso, non so di lui che lo crepa adesso ruba kill di me fallo su Wayne no no no, a questo punto aspetto l'hyper che mi servono 10 secondi se non me l'annullano non hanno mana per l'hyper nessuno di loro quello più vicino è adesso se lo fai su Wayne è vinta cammina solo Wayne perchè mi sento nooo è salvato se l'ho qua Wayne percorri qua a farla aspetta ok ok altissimo vai 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 poche miseria no cosa vada cosa io ho detto lo deviato fatemi fare questi poteri fatemi fare questi io non vedo io non vedo l'h del tt non la vedo ma cosa fate il tt perchè l'h del tt è già pagato chi è che ha fatto il fermatempo con la mia hyper non lo so io ero bloccato sei una troia sei una troia una trodia se perdiamo è colpa tua qui ma quale è successo? cioè stai dicendo da mezz'ora mo faccio l'hyper e tutti ma cosava non crepa mai cosava è già 8 volte oddio non crepare sergi crepa ma io non crepo non faccio più tt non c'è nemmeno alchimista cosava mo fa hyper a boot break break non crepare ma quale break cioè ci sto provando ad andare contro cosava ma non c'è niente ci arrivo io con chaser ma cosa vuoi fare tu con chaser? vorrei che non dico l'ho chillato io secondo che tu non lo sai sì sì certo 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 io ho visto l'hit volevo fare ultimi 3 più prismash a te ma c'è fermatempo ah e sto per abbinare dungeon eh ma ti può aspettare la mia hyper non potevi fare oh c'è danno in me dove? dove? quando? cosa? perchè? in pvp? ma in che gilda era poi? a meno dove? e stava nei brapness quando lo so secondo me ne ha guarda solo la mia città ne ho pretevo ma poi il mittel ha preso del bambino santi ah se tu sai che sei evviva ma di me sono dai non ho detto ma no mi ripeto non mi ho più ripeto ok vuoi ce la faccio ce la faccio è morta è veramente in cominciamo no cosa è l'errore ho più tutto cazzo di disfai e mamma muore ah ok morta ma che questo cosa qua ah ah pensavo così tu cioè no non riesco per me tutti i piatti sono uguali a distinguerli i due add ho capito appunto sono troppo simili i piatti sono come i cinesi sono come i cinesi come i cinesi il nostro plasman è un raymond di me sono un cinese questo è un cinese plasman che mi riega e poi domande no ma cosa sta realizzando Ciao than in realtà però la pompa colmanico a sisi così dice il nonprofit la la mano la roma no 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 e vide r 좋은 mexit mi show abbcia у a pubblico mescolana mamma a mom or bay perchè ma forse c'è cosa somos qu'c mesmo svetla stalo quando non continent ele thriving hippie come non ho hp per l'overea colpo totale però posso fare questo sono ancora vivo ma che pollo sto mi fai uccidere subito invece no deve cascare in palco troppo un pollo no 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 dove cavolo sei? non ti vedo troppe trappole posso tankare posso fare qualcosa credo da solo contro 2 contro 3 poi guarda 1 ero ucciso spam BR 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 ok no no ok le trappoline vedi che eh però eh mi ha preso pure a me da solo contro 3 ho lo shota di quasi su spam spam no 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 non mi ha preso non mi buttare in avanti tanto quanto sei morto ok 4 a 4 4 a 4 oh c'è la scuola 4 a 4 4 a 4 poca merda via via con le azure non riesco a fare la congo io moro io moro di nuovo fatemi fare sta congo potete tankare voi ah finalmente ce l'ho ma vai via va cos'è che mi sta colpendo non si capisce niente c'è una asura non si capisce niente se c'è una asura vabbè infatti mi festo no non me l'ha buttato sono un cesso ma vai in cularmi e mi scarpe oh sto morto se perdiamo se muori eh ok no eh se teniamo premuto il mana back non mi ha breccato oh ho fatto urlo 20 d'altra parte vabbè urlo 20 mi sento una point ho fatto emozionarti lo usavo solo come fermatempo per far bazzuccare volte ah giusto ho tenuto zeta premuto una break down una spustante o se l'ho caricato troppe volte può darsi perchè non l'avevo neanche visto che posso cacciare 2 kill loro vabbè ma gli facciamo male ah adesso l'incendita per una volta che non posso tankare questa volta faccio gli urli 20 per la direzione giusta spero per voi se hai capito la direzione giusta eh non fare zappa non fare zappa non fare zappa non fare zappa ma cosa stagli per farlo con un aggancio figlio ma niente aggancio figlio tra di te per cosa fai nel nulla per senji sto aspettando che mi passi il bled per 20 minuti WELP 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 cosa mi ha aiutato War Dragon praticamente mi ha fatto evitare accelerature grazie grazie wow ho visto uno shock eh scusi me e che ha shock ah Psyx è vero che sarà la vita questa asura mi sento a forza a breccare contro asura ahhh questo mi è piaciuto non farà a breccare ok fermo fermo ok fermo fermo di merda porco di faccia faccia con top side sick no 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 mamma ah sia eh ho schivato a cresci potere ok ok adesso potete gi bene bene xD 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 piaccare xD xD per fortuna che questo ghiaccio e c'è la trappola lì porca miseria no non posso correre me la sono presa in faccia aia 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 che me ci sono troppe trappole per me dico io e gli hp si muove nooo son caduto e due ci prego leggete la frustazione di pacci in giugno bravo leggete sono pannate la frustazione aiuto 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 o li becca tutti ok worddrago è morto credo si io non lato no non ucciderlo ma si che l'ho uccido perchè non posso ucciderlo perchè si ah ok no cosa l'avevo preso io coglia di uffa psychic è anche un lato dato di via perchè perchè si chiama psychic perchè la quindi psychic non ho l'idea ma sembra tipo psipollo non sarete mai nella mia auto e lo faccio arpione ma ci stanno troppo divertendo vabbè io lo faccio a 2 hp sai chi sono non riesco a agganciarlo si noo è scaduto no 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 ho presa con la criccia nooo no 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 morto noo porca merda l'ho ucciso così discus a caso ma stefan non fa pvp con distra hai preso anche lei si perchè ho fatto discus più magneto poi ho fatto discus l'ho presa con discus poi c'è nato magneto contro e l'ha terminata che cosa bella mi stanno facendo 100 oggi 100 100 no non si fanno 100 100 100 100 30 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 talkin 30 31 31 31 32 che discusi no mi frega sempre o arcise e basta no non fare a domicilio voleva extropparmi precato sto schivando tutto ad arcise poverino stava per colpi mi sta sottando ho visto un fatality e non ci sono l'hai preso no perchè ha breccato c'ha breccato in aria no da domicilio ci si fa pugno fatevi fare il pollo fatevi fare il pollo fatevi fare il pollo no me l'ha cancellato il mio pollo e l'ho deviato con palco io posso ma non è morto l'ho ucciso secondo me con la freccia si ok vedo la possibilità di farmi bello bier 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 nerf bier eh porca misera però di cose belle quando succede in ereda morto dovete fare discos dopo magnet come vi vede i danni no perchè non l'ha preso bello non tengo un cazzo grande qua due tre mi metto a fare la ga ga time adesso mora in aspetta mi metto a stare di qui ah non tengo un p per fare canto prendi quello su a prendi tato prendi tato eccomi hai rontato qua veloce ma dove siete? come ha fatto uscire? è che appena spawno su l'ip nooo mi prendo non mi fa bleed giù no 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 via via nooo brutto taz brutto taz pur se se la faccio a far via ancora se la faccio a far via e cosa? cos'è successo? ho schifato il coso in alto il pugno dal cielo eh io ero stunnato non potevo schifarti no 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 ho x drop un po' mi manca un mp prendi l'orcise prendi l'orcise prendi l'orcise prendi l'orcise era ovvio eh l'ho preso però se lo dovevo per cadere c'era i heroes dietro potevo morire ma no no non l'ho preso aspetta ok no tengo il tato addosso quel che date con l'orcise è arrivato un disco però non l'ha fermato oddio e non stava neanche stoicando per cazzo eh ne ho finito un shot notte potevo scappare se vabbè no segui si full hp e tankala ho fatto 0 kill e 1 assist ci penso io dai mi servono un po' di ampi no 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 devo cadere devo cadere devo cadere appena crescio no è se si ferma vai 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 ah vai prendo a lui intanto poi è se ti devi ma sai ma appena ta domica scende posso prenderlo eh eh però non lo sciotti eh dovrebbe andare a muro però potete riprendere nooo va me lo peccato no 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 dai lo peccato non voglio morire non sono morto ah ma c'è ancora un hp o cosa? ooooh io sono morto io sono stasinaga tutto il tempo se Tadumika rinasce e mi fa fare ma io non ho capito una cosa se questo sta ancora con un hp non se c'è la mezzura ah ok bene tempo 2h sono stato fermo ho fatto il doppio saldo dall'altra parte della mappa e sono rimasti in aga così ho avuto 2h e perchè sennò 10 minuti di tempo e 39 secondi ah no 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 prendiamo gli altri personaggi prendi il vc perchè sei sloggato? prendi il vc e vabbè li facciamo dopo 10 minuti facciamo adesso così facciamo l'ultimo e fine con l'ultimo con i personaggi normali ma perchè? perchè vogliamo più sage noi rubatemi ma perchè hai preso sta cazzo il cps? perchè mi dà il the sage eh chissà è o caso no ok ma io piango adesso sono al 52 forse sono utile scusate la ca con triple shock la cp perchè i miti coreani solo che non ha più 10 praticamente 11 madonna mia si gatta è più 11 perchè qui 10 non li trovo un handle per tutto quel danno mi sono pure arrancato a qui che andò a tu puoi portare la miraja ma rimacrobatta possiamo vincerli questi dai possiamo vincerli eh io scappo prendili prendili faccio salasso ah io posso fare le cose che inseguono così magari li agganciamo guardi però perchè li seguono ha breccato perchè ho lo spettro che non mi ricordo il nome dello spettro ecco che warp ha fatto stiamo vincendo 2-0 eh ma con quale è questo? guarda quello è nudo no 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 non mi fa niente di danno ma qua ho fatto una pentola perchè fa... no date fagli fatemi uccidere nooo ma dai l'avevo preso mi tengo 2 stu di... ok stavo prendendo stu di... ehm... qual era il nick? c'era c'è guarda la stavo senza... le vanno un accetto le vanno un accetto case oddio mexican cannon ma dove vai? dove vai? un secondo non ce la sto a trovare lo facciamo pure in inizio a vero un po' qui c'è di avere la mia prima pagina non dirighi che sono ancora... è in cesta pagina ma sono ancora inizio ma sono ancora inizio io mi sto divertendo un casino a steppare in giro steppare in giro ah no praticamente tutela runnin non ci siamo e se vuoi lancio qualche palla a caso nooo no mi cava troppo no in te non potrei fare qualcosa tipo gli ston questi aspetta prova a fare qualcosa devo scettare l'ad l'ad è quello che a meno vita ecco faccio questo vado in giro facendo no 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 mi uccide adesso mi uccide ecco posso andare in giro a fare questo ah pure plasma oddio no si son morto si son morto si son morto no vado qua tu io le ho atto m3d3 no non lo prenderò mai pam pam dovete uccidere l'ad don't prepare alt miss l'h ah ma ci sta pure il dm che è mezzo morto se vieni ci siamo fuma fai sharp fallback aspetta allora mi metti in un angolo aspetta boh ma siamo 42 sono quasi mezzacinta che proata eh no non ho preso eh non hai preso eh l'ho preso l'ho preso l'ho preso è tutto calcolato ok torno adesso on the wc si facciamo l'ultimo eh the mastermind eh the wc c'è 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 c' oh scusa rifai è in vita costo dai non mi si muove il mouse perchè dai perchè c'è il lag del registrato sei bugato ancora aspetta che riloggo aspetta vado da camillo potrei direttamente rilogare ah ok vai no perchè era senji bugato ok comunque no non abbina ancora porca merda do capo a prova a fare cap d'angelis aspetta prova adesso aspetta inizia il pdpg abbiamo win sono appena luclato rifai ma mi pronuncio celeste che li ammazzo ma cosa invitalo io lo facevo invitare aspetta dai facciamo l'ultimo no l'hai chiesto non è andato a buon fin ancora riloghiamo tutti vabbè ma faccio più il picco senji dai dai si si prendo pure le 6 gi si gruppo io tanto già tengo lama cannone log su merami pop per slog merami pop lo fatemi faccio uno co perchè rifiuti nero un punto togli il rifiuto dai gruppi qui lo riprendiamo dai vai 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 riprendiamo gli altri no non sei vabbè basta farmi uno quanto tempo abbiamo? fa 4 minuti va bene io ripendo alleluia finalmente dai tu è andato che casenji che casenji allora che vado che ho un altro pg oh no non ho messo colpo di turno oh no tutti quelli vecchi aspetta aspetta solo quella che dici ciao perchè praticamente io veter abbiamo sta roba che io dico ciao e lui mi dice ah ciao no perchè non lo dici perchè non lo dici perchè non lo dico perchè non lo dico perchè non è una cosa mia uffa perchè è caduto bam se lo ricorda ancora no 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 questa tiene la cundice questa tizia è rungi è rungi è rungi è rungi è rungi il desmo ero povera minali no 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 eeeh che senso da fare la secret del dynamo run ci sono tre minuti e stiamo a 95 vitori colpo di fulmine ha fatto se la faccio a fare un pollo? nooo aspetta che faccio ok arrivo andiamo con youtube nooo no 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 non posso morire ho deviato son morto pure contro loro senti me addosso che pulito non ci voglio mettere l'altro ghiaccioli di di cose di ghiaccioli nooo secondo me non scappa eh ecco non scappa shotta shotta no è scappato il pesci dentro vieni nel black hole vieni nel black hole vieni nel black hole prendagli canna fai il favore di morire ti togli gli mp ecco grazie invece di zero abbiamo metà degli mp eccoci chi non lo mana poi non ho neanche dp per fare la crash oh grazie no 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 l'ho bloccati io il male che mi fa dire vediamo se lo shotto a qq oh ma in tutto questo sto a fare il tanker della situazione no no ma come tanko ha fatto riper ho otto anni di cd per tornare in vip hai filmato anche questo no 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 salvatemi per iox è filmato anche quello sto filmando da un'ora esatto ok e sto giocando malissimo no no il verso diiii di senji quale verso di senji? oh ma sto usando il bm non male che faccio non ho sentito no oddio oh è partito è partito perché ero concentrato su altra lo facciamo un ultimo soltanto perché sto facendo video oh raga ma io oddio tanko col bm tanko ho fatto zero morti manco un minuto lasciamo stare dai dai veloce vieni quella 99 che qualcuno faccia la centesima vittoria vabbè lo potremmo anche fare un pd no non può essere così triste lo chiamo gli altri avvina tipo becchiamare tu senti 30 secondi vincete non può essere così triste chi è il pd dai avvina io siamo 3 a 3 siamo 3 a 3 potremmo vincere ci sono tipo 200 secondi ancora i td ci seguivano a 100 in questi secondi ne facciamo tutto ne facciamo tutto roita e alice queste cose provo a giocare bene per un pd .. comence in pvp vanno perso fallo luci secondi barbara il baguette un uomo e pensavo che possiede a paura un po' moviti stile e ormai non è più la parola ma ci siamo abituati si non è più un'emozione che brutta cosa non sento niente che hai detto partito sonoro bugato e cazzo il volume che si sta un po' a scatto no 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 a me si apre il volume voglio tankare anche qui si comunque le puoi fare ma che ha detto non ho capito mi ha breccato non so ha chiesto se si possono ancora fare durante il torneo ah si possono ancora fare siccome non ci sono io nella chiamata quindi devi chiederlo a te che non senti si si ho capito tu non ci sei nella chiamata tu ci sei nella chiamata no io non ci sono nella chiamata no tu ci sei nella chiamata ti dico di no ma io ti sento nella chiamata eh si chiede che problemi con l'audio ah ok tu non ci sei nella chiamata hai ragione un uomo l'ho sentito è rotto burlaccato è sempre sì oh buccato l'oro no 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 l'ho voluta per me dai il dubbio ok la beccata arrivo no 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 avevi ok ok preso avanti prendendo è trittetto no click drop che non sai riprendere non è vero è capitato perché l'hanno fatto isso no 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 è morto ancora si oh no per una volta sono morto anch'io dai 30 secondi e poi faccio l'amestream poi vediamo cosa abbiamo droppato secondo me è sciolto, alla fine tengo la più 10 ricordate di tenere gli sciogli per l'otto scogli no non si può tenere che 2-1-6 giochi poi dopo scadono ah vabbè allora li uso subito una domanda ma nei weekend danno tipo si 100 punti ficcate eh lo scroc è bello ma no ho fatto tipo 10 vittori, siamo forti quindi meritiamo per quelle 10 vittori esatto no devo comprare il mission si sono scappato nooo canno tre morti non posso farne l'ultimo piccolo non morire poi io scappo sei vivo? no non l'ho preso fico fico oddio non sono ancora morto vai via canno nooo nooo cosa su serie abbiamo perso l'ultimo piccolo ah vabbè è stato emozionante però scappare da casa oddio io ne ho droppato i 3 e ho sviluppato pure delle spadine navi e anche un meccanato e anche e dropperò qualcos'altro sono l'unica che non la troppa pulso totalmente un cazzo no no tranquilla ci sono anch'io io ho troppo si tipo troppo tipo le pietre benedette prende roba ma anche Mavis vuoi capirmi? mettimi un attimo, faccio un attimo i cpp e esco dal gruppo vediamo perchè non ho creato i cpp per questo che bellona sei già qui sopra va bene siro calmati se non ci rivia più rip ciao sebi 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 2k 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 siro è veramente droppato vediamo cosa troppo troppo carino ora non ho troppo doggiate io posso prendere due volte quello da 30 che bello fosse volontà niente hai svegli di registrare? ora si